Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi, non c'è neanche bisogno di mettere il punto di domanda perché sembra cosa fatta che Amadeus nella prossima stagione passerà all'emittente 9. Non è il primo che fa questo salto e potrebbero esserci altri soggetti che decidono di andare alla 9, si vocifera anche di Fiorello. Ma staremo a vedere, quella di Amadeus sembra accertata, dove avrà un ruolo molto importante, non solo condurrà probabilmente trasmissioni e quant'altro, ma sarà responsabile, credo, del palinsesto e così via. E lecito anche così porsi una domanda, ma cos'è una nuova emittente dei comunisti come lo fu un po' di anni fa la 7? Sicuramente è una possibilità, anche perché Amadeus va via dalla RAI perché ormai sappiamo si trovava un po' stretto, è messo un po' alle strette. Se ad esempio abbiamo visto anche l'ultimo Sanremo non è stato esattamente la Kermes del Partito Democratico come era stato l'anno precedente e gli anni precedenti. Perché al governo c'è una coalizione diversa, io ho sempre detto critichiamo ed è giusto criticare la Meloni, il governo Meloni per quel poco niente che sta facendo per quanto riguarda il popolo italiano. Però, però, su altri fronti bisogna essere intellettualmente onesti, lei ha fatto sicuramente qualcosa e sicuramente in parte può fare ancora meglio, ha fatto un ripulisti per quanto riguarda la RAI, tanto che insomma soggetti come Amadeus e non solo si trovano sempre più un po' isolati. E siccome è previsto, almeno dai grandi analisti politici, che è probabile che Giorgia Meloni possa rimanere in sella per molti, molti anni, ancora più adesso, che insomma è assolutamente un affidabile partner dei poteri forti del sistema, degli Stati Uniti in particolare, ma perché mai paesi come gli Stati Uniti, ma non solo, ma anche l'Unione Europea, dovrebbero ostacolare Giorgia Meloni? Nella maniera più assoluta no. Però è evidente che, insomma, il Partito Democratico non ci sta e vorrebbe riconquistare un po' di consenso che altrimenti non riesce a conquistare. E io ho sempre detto una cosa, è un mio convincimento, potete essere d'accordo più o meno, o contraddirmi, che l'informazione è tutto. L'informazione è tutto perché è l'informazione che riesce, e io dico purtroppo, ad influenzare gli italiani anche e soprattutto nelle loro scelte politiche. Ora, l'italiano medio, e questo purtroppo è una sciagura, attinge le proprie informazioni quasi esclusivamente dalle televisioni nazionali, perché noi siamo dei cattivi lettori, non leggiamo, se confrontato con altri paesi europei, mediamente leggiamo pochissimi libri, cada uno, siamo un paese che non attinge le proprie informazioni dal web, non confrontano le informazioni andandosele a ricercare, ma figuriamoci, è molto più comodo stare sul divano la sera quando si arriva a casa e sintonizzarsi sulle varie emittenti. Mentre un po' di anni fa, perlomeno, c'era ancora le televisioni Mediaset che qualcosa contro questo sistema facevano, adesso, l'abbiamo detto più volte, tutti belli allineati, no? Belli allineati perché il potere, il sistema ti garantisce successo, ti garantisce denaro, e perché io dovrei andare contro se posso sedermi, sono invitato anzi al tavolo a sedermi con i grandi della terra e a mangiare anch'io la mia piccola grande fettina di torta, ma ci mancherebbe altro che mi ribello e vado contro, ed è quello che insomma stiamo vedendo e quello che succede. Però, però, poi sappiamo che il consenso aiuta a rimanere al vertice, ad avere successo, ed è di tutta evidenza se i comunisti, il Partito Democratico continuano magari o iniziano a perdere consenso, questo danneggia poi le ambizioni di tutti questi personaggi. Ma torniamo all'emittente 9 che sta diventando sempre più forte, sempre più potente, è evidente che c'è dietro qualcuno che ha il denaro per poter aiutare l'emittente 9 a crescere come è successo in questi anni, e non è un caso che insomma vengono chiamati i loro amici a farne parte, e Amadeus sicuramente lo sappiamo anche politicamente è schierato appunto con il Partito Democratico, con la sinistra italiana. Staremo a vedere quali altri personaggi affluiranno alla 9. Per carità, per noi nulla di male, anzi, probabilmente meglio così, ma semplicemente attenzione che alla ribalta si sta affacciando un'altra emittente che già si sta avvicinando ai risultati di Mediaset, di La7 e anche della Rai, e presto potrebbe essere l'ottava emittente di livello nazionale a riscuotere un certo tipo di successo. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.